Il Milan senza Stam, Pancaro, Ambrosini e Sedorf, Schiera, Calazze, Rui Costa e la coppia Inzaghi-Shevchenko, mentre la regina ricorre in extremis a Zamboni al posto di De Rosa. Rossoneri padroni del match, dopo 11 minuti grandi numeri individuali di Kakai-Shevchenko e conclusione vincente dell'Ucraino al quarto gol in campionato. Dedica collettiva per il neonato Achille Costacurta, il figlio di Billy e di Martina. La squadra calabrese con il solo Nakapunar a sostegno di Bonazzoli è troppo rinunciataria e trova soluzioni unicamente con l'esterno destro Mesto, qui al tiro. Scheva e Inzaghi impegnano la difesa a tre e a cavallo fra il centrocampo e questa difesa si esprimono in verticale, ora Kakà e ora Rui Costa, davanti alla cerniera Pirlo-Gattuso. Rui Costa da vice Sedorf gioca come interno sinistro e lo fa in modo diligente, dinamico e creativo, servendo Shevchenko, diagonale respinto da Pavarini. Difesa del Milan, disattenta al 46esimo. Infatti non può essere il portiere Dida, in sostituzione di Nesta e Maldini, a controllare qui Bonazzoli. Passiamo con il montaggio di Daniele D'Angelo alla ripresa e alle otto brate di Scheva, che in questo mese ha segnato 17 dei suoi 96 gol, è al top della forma e lo dimostra. Ancora un po' di leggerezza nella retroguardia centrale del Milan. Dopo un errore di Nesta, retropassaggio, rischia tutto di Maldini e fallo di Colucci su Dida. È comunque il segnale di una crescita della regina e dell'improvviso blackout del Milan. Attenzione! Punizione di Nakamura e colpo di testa perentorio di Franceschini, uno a uno. La reazione dei padroni di casa dopo un quarto d'ora di letargo è vehemente. Pirlo diventa protagonista, lancia Cafu e il brasiliano chiama in causa Pavarini. Fuori Inzaghi, dentro Tomasson e dopo appena 45 secondi al ventunesimo, il Milan segna un gol da Milan. Lancio di Cafu, stop da scuola di calcio di Shevchenko, la freddezza dell'Ucraino che attende l'arrivo dei compagni e la stoccata di Kakà. Due a uno e dedica spirituale. Dentro pure Sedorf, Borriello, Dionigi, Ganci e Brocchi e guardate che razza di occasione sciupa la regina. A fondo del solito mestro sulla destra e grave spreco di Bonazzoli in spaccata. Al quarantaduesimo nel giro di un minuto può cambiare tutto a favore della regina e invece cambia molto a favore del Milan. Punizione di Mozart e gol di Borriello ma il gioco era già stato fermato da Trefoloni per fallo di Dionigi su Nesta. Sulla destra ecco la possibile ma non certa inflazione dell'attaccante sul milanista. Capovolgimento di fronte e Shevchenko che decolla letteralmente a centrocampo diventa capo cannoniere del torneo. Tre a uno e quinta rete in cinque giornate dell'Ucraino. È tutto e la linea torna a Paola Ferrari. Grazie.